Musica Ci arriva questo elicottero da sopra e tutti che gridavano, salutavano quello che guidava l'elicottero, i militari, tutti contenti e qualcuno che stava al punto più alto della nave si tira un sandalo perché era estate lo tira verso l'elicottero e si sente L'elicottero si è allontanato velocemente e non si è avvicinato più però era soltanto una ciabatta, non era uno sparo E noi sopra la nave abbiamo cominciato a ridere ma ridere in 20.000 Quell'elicottero se ne va e noi che scherzavamo con quelli che hanno paura e non come noi che siamo eroi che viaggiamo senza problemi Grazie a tutti Grazie a tutti